Puoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparente. Ok, ti faccio vedere un po' di movimenti che registri bene tutto, hai capito? Grazie a tutti. 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 Tutto, hai visto tutto? Sono le leo, i comandi, il pistone idraulico per il pistoncino, la macchina è a posto, ciao, fammi sapere.